Cari amici, bentornati in questo nuovo appuntamento con Vivere in Armonia. Oggi parliamo del Blue Monday. Che cos'è? Ogni anno arriva il terzo lunedì di gennaio e tutti iniziano a parlarne. Sui social si condividono post che riguardano il Blue Monday, articoli su articoli che escono anche in testate molto importanti nazionali. Fatto sta che questo Blue Monday è il lunedì in cui tendenzialmente le persone si sentono più tristi rispetto a tutto il resto dell'anno. Però è veramente così? E allora oggi ho pensato di dedicare un episodio proprio a questo per andare a scoprire la verità che si nasconde dietro il Blue Monday. Blue Monday che ha come significato lunedì triste dall'inglese. Così come è inglese, britannico, chi ha ideato la formula per scoprire quale fosse il giorno più triste dell'anno. Quindi come ti dicevo in apertura è il giorno in cui le persone si sentono più tristi rispetto a tutto il resto dell'anno stesso. È stato quindi Cliff Arnold, uno psicologo life coach che lavora presso l'Università di Cardiff a ideare questa formula matematica per andare alla ricerca del giorno più triste dell'anno. E i fattori che influenzano il nostro umore in questa giornata particolare e che poi sono stati inseriti nella formula sono proprio il meteo, per esempio. Il senso di colpa per aver speso molto durante le feste di Natale per comprare dei regali. Ma c'è anche la distanza che separa la propria routine giornaliera con il proprio lavoro dalla prossima festa, la prossima occasione per andare in vacanza e così via. Quindi tutti dei fattori che effettivamente si sentono nel mese di gennaio quando si iniziano di nuovo le attività dopo aver staccato per un periodo dalle festività e così via con tutte queste influenze. Come ti dicevo però in apertura è veramente così? Cioè 15 anni fa questa formula è stata veramente ideata per scoprire questo giorno? In realtà facendo delle ricerche si scopre che è tutta una messa in scena. Ti spiego meglio. Una società di viaggi, quindi la Sky Travel, ha sfruttato questa trovata, questa scoperta del giorno più triste dell'anno per finalità che non avessero a cuore il benessere delle persone ma che avessero a cuore il marketing. Quindi pubblicizzarono i loro viaggi proprio ideando questo lunedì triste e spingendo alle persone di essere più felici prenotandosi un viaggio. Quindi era l'occasione migliore per poter andare in vacanza e sollevare il proprio morale. La stessa università di Cardiff prese le distanze dalla scoperta dello psicologo. Quindi questo sottolinea il fatto che non c'è molta scientificità in questi dati. Tant'è vero che sono stati contestati anche dei matematici hanno detto che la formula non ha nessuna validità e che i fattori sono così tanti ma anche sconnessi tra loro che non possono calcolare un dato così importante e così rilevante che tra l'altro è difficile già da incasellare all'interno di una formula matematica perché stiamo parlando comunque dell'umore, dell'umore delle persone di un intero emisfero, l'emisfero boreale. Quindi in soldoni il Blue Monday è una grande bufala. Una grande bufala seppur ci sono degli studiosi che dicono che c'è un fondo di verità perché effettivamente con tutti i cambiamenti a cui si va incontro nel mese di gennaio c'è un cambiamento di umore rispetto all'estate ed è dovuto anche ad alcuni dei fattori come il meteo, le giornate più corte, la distanza dalle vacanze, il peso che magari a inizio anno è maggiore nei propri luoghi di lavoro e quindi un fondo di verità possiamo prenderlo non tanto per la giornata ma per il mese di gennaio intero. Alla luce di ciò però penso si possano fare tre importanti osservazioni. La prima sul fenomeno, cioè la bufala. Ormai con l'era dei social è molto facile scontrarsi contro queste notizie false e prenderle invece per pura verità, per oro colato che ci condiziona a tal punto da influenzare il nostro umore o comunque il nostro comportamento. Questo perché nell'epoca di internet in cui abbiamo tutto a portata di mano è maggiore la tendenza a compiere il minimo sforzo. Cioè è un grande sforzo, come viene percepito da noi, ormai andare alla ricerca di fonti ufficiali per poter appurare se una notizia è vera o no. E quindi politica, marketing e quello che vogliamo considerare sfruttano questa ondata, sfruttano questo fenomeno di massa anche per portare acqua al proprio mulino. C'è tutta una politica basata sul populismo che si sviluppa proprio grazie a questo fenomeno. Come seconda osservazione possiamo parlare dell'effetto che hanno queste notizie proprio sul nostro modo di reagire alla giornata, reagire a livello umorale, a livello comportamentale. Parlavo tempo fa in una puntata che ti invito ad andare a ripescare di effetto pigmalione, cioè come si tende a uniformarsi rispetto ad alcune immagini. L'effetto pigmalione faceva riferimento all'insegnamento, agli insegnanti che consideravano i loro studenti in un determinato modo e gli studenti tendevano ad uniformarsi rispetto a quella credenza. Ecco, senza andare troppo lontano possiamo considerare l'oroscopo, per esempio. Come leggere l'oroscopo giornalmente o settimanalmente possa influenzare la propria giornata? Secondo quell'effetto proprio della profezia che si autoavvera. E quindi anche il Blue Monday, possibilmente, legge una notizia di questo tipo in una giornata particolare potrebbe avere questo effetto e quindi percepire la giornata davvero come triste per uniformarsi a quella notizia se non viene filtrata. Terza, invece, è un po' più profonda come riflessione. Facciamo una differenza tra la necessità di prendersi delle pause e la necessità invece di darsi degli obiettivi. Cioè è vero che magari ci si sente tristi oppure ci si sente appesantiti e quindi è il momento di staccare per darsi delle pause non in un giorno particolare ma dovuto a un particolare periodo che si è attraversato. Ma bisogna fare la differenza, invece, rispetto alla necessità di evadere in una giornata particolare rispetto a un proprio stato d'animo, a una tristezza se, premessa, a delle basi fondate. Perché evadere significa sfuggire proprio a quel messaggio che la tristezza stessa porta nella nostra esistenza. Allora, come fare a comprenderlo? Beh, basta chiedersi come mai mi sento triste e come mai ho questa esigenza di evadere. È perché magari quello che sto facendo non mi corrisponde, non mi rappresenta? È perché il mio lavoro sta diventando pressante? Oppure perché il mio lavoro in realtà non mi appaga totalmente? Avrei bisogno di realizzarmi in altri modi? Alla luce di questo poi darsi degli obiettivi. Obiettivi che, a prescindere che sia una pausa quella di cui abbiamo bisogno o a prescindere che siano altri bisogni più profondi a muoverci, possiamo darci a breve termine e a termine più lungo. Sia per concederci degli spazi personali durante il nostro periodo da una vacanza all'altra, sia comunque per attraversare degli step che ci possano far allineare rispetto alla nostra direzione, alla meta verso cui vogliamo andare. Quindi queste sono le tre riflessioni che mi è venuta così a caldo da fare rispetto a questo Blue Monday che annualmente ci viene ripresentato come qualcosa di inevitabile, quando in realtà non ha fondo di verità e poi può essere comunque interessante per rielaborare alcune informazioni. Se quindi questo episodio ti è stato utile, ti invito a condividerlo con le persone che potrebbero trarne beneficio e anche un po' per fare della corretta informazione. Magari vai a ricercare altre fonti per sfuggire al circolo della bufala. E se in più vuoi ricevere ogni giorno un consiglio extra che condivido solo su WhatsApp con alcune persone, mandami un messaggio con su scritta la parola CONSIGIO al 329-321-1971 o vai su sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima! Grazie a tutti!